Ricordo di quella notte veramente molto brutto anche perché successe alle 3 e mezza e io abito in un paesino a circa 50 km di linea d'aria di Acqui e l'ho sentito forte quel terremoto. Mi svegliai, mi resi proprio conto che era successo un terremoto forte da qualche parte, poi ovviamente accendendo la tv e sapendo l'entità del terremoto lo ricordo veramente con agitazione, che viene seguito anche nei giorni a venire, tutte le scosse e tutto quanto e che proprio mi ha spinto ad indirizzare la mia tesi verso il rischio sismico. E Tatiana Ioppolo, abruzzese laureata all'Università Roma 3 con una tesi sui fenomeni sismici che hanno interessato l'Emilia nel 2012, la vincitrice del premio di laurea Avus 2009 dedicato a chi non c'è più, a quei ragazzi sui quali l'Italia avrebbe dovuto e potuto puntare ed invece la cui vita è finita nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009. Un premio voluto fortemente dall'Ordine Nazionale dei Geologi che si sono dati appuntamento oggi all'auditorium di Renzo Piano. Il premio è stato finanziato con i proventi dell'evento del libro Macerie dentro e fuori del giornalista Rai Umberto Braccini. L'incontro aquilano è stata l'ennesima occasione per il Presidente Nazionale dell'Ordine dei Geologi, Francesco Peduto, per rinnovare l'appello rivolto al Governo di investire finalmente in prevenzione nella messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio. Non è infatti un paese normale quello dove è un reato non fare la periodica revisione dell'automobile e dove invece si può tranquillamente vivere in case insicure anche in area fortissimo rischio sismico. Noi oggi siamo voluti ritornare in un posto simbolo, in un luogo simbolo che è l'Aquila, con una parola d'ordine precisa, ricordare. Ricordare innanzitutto le vittime di questo terremoto, ma anche se mi consente dei tanti terremoti che interessano il territorio italiano in continuazione. E poi per ricordare che nella problematica del rischio sismico deve essere ancora fatto molto perché siamo ancora lontani da una moderna politica di previsione e prevenzione del rischio sismico. Noi siamo qui apposta per ricordare alla politica che c'è necessità di intervenire sin da subito su queste problematiche. Penso per esempio al fascicolo del fabbricato, che io paragono sempre al libretto pediatrico di un bambino, il posto dove segnare le malattie, le cure, le ricadute dei nostri fabbricati. Ed è una cosa importantissima in considerazione del patrimonio e delizio storico che abbiamo nel nostro paese.